L'UE impone i limiti normativi più severi al mondo per l'aflatossina M1, con valori a partire da 0,025 microgrammi per chilogrammo. Purtroppo, negli ultimi 20 anni, in diverse occasioni la presenza di aflatossina M1 è stata riscontrata a livelli senza precedenti nel latte proveniente dall'Europa meridionale. Esistono metodi di analisi ben consolidati per il monitoraggio di questa tossina nel latte, nei prodotti lattiero caseari e nel latte artificiale e l'uso di Aflaprep M1 rende la procedura ancora più semplice. La colonna di immunoaffinità di ampio formato è più facile da maneggiare ed è particolarmente adatta per l'analisi di campioni ad alto contenuto di grassi. I nostri anticorpi sono utilizzati con successo sul mercato da oltre 35 anni e sono molto apprezzati. Il nostro prodotto ha un elevato carico di anticorpi che garantisce risultati accurati ai bassi livelli richiesti. La colonna di immunoaffinità assicura una pulizia superiore con conseguente riduzione dell'interferenza cromatografica. I metodi ufficiali Ceno-OEC sono ampiamente utilizzati e la colonna Aflaprep M1 supera tutti i criteri specificati. Inoltre, la colonna di immunoaffinità ha dimostrato di funzionare bene in prove multilaboratorio ed è stata convalidata su diverse matrici lattiero caseari e complesse come burro, yogurt e gelato. Il sistema automatizzato su misura installato nel nostro stabilimento di produzione a Glasgow, in Scozia, ci consente di produrre grandi lotti di colonne. Questo permette ai nostri clienti di ridurre i controlli di qualità interni e di prenotare le scorte in modo più semplice e pratico. Inoltre, il numero di lotto è inciso singolarmente su ogni colonna, migliorando la tracciabilità. Analisi più semplici con R-BioFarmRone. Possiamo assistervi nella scelta del metodo adeguato per diverse matrici, riducendo le vostre esigenze di ottimizzazione interna. Siamo a vostra completa disposizione per ulteriori informazioni.